Alessandro Vanoi, candidato nazionale per queste elezioni dal punto di vista tecnico. Una fisica ha bisogno di che cosa? Parlando dell'aspetto tecnico. Immagino di tantissime cose. Da dove iniziare? Io ho sempre seguito lo sci di fondo, di conseguenza vedere che in questi anni lo sci di fondo è stato, oserei dire, maltrattato dalla federazione, mi fa male al cuore. Anche perché io da questa federazione ho avuto veramente tantissimo, grazie ai risultati dei nostri atleti abbiamo fatto veramente delle grandi cose. Vedere che lo sci di fondo è stato maltrattato in questo modo, dico che è ora di cambiare. Quindi dobbiamo assolutamente rimetterci in moto con più entusiasmo, con più volontà, con più passione. Quella che vedo che in questi ultimi anni, perché non è solo questione di poco, ma negli ultimi anni sta un po' mancando. Quindi io vorrei mettere tutta la mia passione, tutto il mio know-how a servizio di questa federazione che ha tanto dato allo sci di fondo e che sicuramente ha ancora tanto da dare. Dopo le Olimpiadi, guardandolo dall'alto questo sport, anche il presidente del CONI, Malagò, ha detto che allo sci di fondo c'è qualcosa da fare. Guardandolo dal basso invece, dai giovani, da tutto il movimento giovanile, poi inevitabilmente le due strade si incontrano, no? Sì, però sono due strade che sono molto lontane ma che arrivano tutte e due al vertice, arrivano in alto. Di conseguenza bisogna percorrere tutte e due, non si può prescindere una strada dall'altra, perché senza il settore giovanile non si ha un ricambio generazionale. Ma senza allenare gli atleti migliori nel modo migliore non si arriva a nessuna parte. Quindi bisogna potenziare il settore giovanile nel modo migliore, quindi cercare di dargli tutti, fargli capire che questo sport è bellissimo e può dare grandissime soddisfazioni. Il problema che abbiamo e che hanno tutti gli sport è che adesso gli atleti, tra virgolette i ragazzi, hanno diverse discipline da scegliere. Io vedo nella mia zona dove hanno lo short track, vediamo la fontana che ha fatto grandissimi risultati, quindi è un polo d'attrazione. A Bormio ci sono la pallacanestro che sta andando bene, la pallavolo, le piscine con il nuoto. Quindi dove le località che erano tipicamente odici alpino di fondo, quindi il bacino d'utenza era quello, adesso hanno molte offerte. Di conseguenza dobbiamo essere noi a entusiasmare questi ragazzi e venire a fare il nostro sport. Quindi questo deve essere il primo obiettivo. L'altro obiettivo è quello di curare bene gli atleti. Io ho sempre detto che l'atleta dello sci di fondo deve sciare, deve fare attività specifica sullo sci, non andare a correre se vuole vincere le Olimpiadi. Questo è quello che è mancato. Chiaramente ci sono grossi problemi, è mancato per motivi economici e così via, però anche una migliore organizzazione sicuramente non avrebbe fatto male. Quindi è sicuramente ora di cambiare.